Srila Prabhupada non vedeva l'ora di lasciare l'ospedale. Erano già diversi giorni che sentiva il desiderio di andarsene. Si limitano a infilarmi aghi nel corpo, si lamentava. Inoltre ogni giorno la sua permanenza all'ospedale aggiungeva nuovi debiti alla sua associazione. I devoti avevano preso in affitto una piccola casetta sul mare a Long Branch, nel New Jersey, dove Prabhupada avrebbe potuto andare in convalescenza. Decisero che Kirtananda avrebbe cucinato per lui e Gaurasundara e sua moglie Govinda Dasi sarebbero arrivati da San Francisco per aiutare a tenere in ordine la casa. Tuttavia il medico voleva che Prabhupada rimanesse per un altro encefalogramma e per altri esami. Un giorno, mentre Brahmananda e Gargamuni erano andati a trovare Prabhupada, il medico entrò per annunciare che lo suami avrebbe dovuto scendere per una radiografia. «Niente aghi?» chiese Suamiji. «Niente aghi», rispose il dottore. «Non si preoccupi». L'infermiera entrò con un lettino a rotelle e Prabhupada disse che voleva essere spinto da Gargamuni. Poi sedette sul lettino gamme incrociate e infilò la mano nel sacchettino del giapa, mentre Gargamuni, seguendo l'infermiera, spingeva il lettino fuori dalla porta e attraverso il corridoio fino all'ascensore. Scesero al terzo piano ed entrarono in una stanza. L'infermiera si allontanò un momento. Gargamuni notò che Prabhupada si sentiva a disagio. Anche lui era nervoso. Non era certo il posto adatto per stare con il proprio maestro spirituale. In quel momento entrò un'altra infermiera con un ago. «È ora di fare una piccola iniezione allo Swami?» «No!» Prabhupada scosse la testa. «Mi dispiace!» disse chiaro e tondo Gargamuni. «Non farà quell'iniezione!» L'infermiera era esasperata, ma sorrise. «Non le farò male!» «Riportami indietro!» Prabhupada ordinò a Gargamuni. Alle insistenze dell'infermiera, Gargamuni passò decisamente all'azione, la sua usuale tendenza, e si mise in mezzo tra l'infermiera e il maestro spirituale. «Sono pronto a battermi se sarà necessario!» pensava Gargamuni. «Non le permetterò di farlo!» disse e spinse il lettino fuori dalla stanza, lasciandosi alle spalle l'infermiera. Gargamuni si perse. Si trovava da qualche parte al terzo o al quarto piano e di fronte a sé vedeva solo corridoi e porte. La stanza di Prabhupada era al sesto piano. Incerto sulla direzione da prendere, Gargamuni spingeva il lettino attraverso i corridoi, con Prabhupada seduto a gambe incrociate che cantava sul giapa. Brahmananda era arrivato in radiologia un istante dopo la fuga di Gargamuni. L'infermiera e il medico si lamentarono con lui dell'accaduto. Brahmananda. Lo consideravano un furto. Suamigi era la loro proprietà. Per tutto il tempo che rimaneva all'ospedale era di loro proprietà, potevano farne quello che preferivano. Gargamuni aveva rubato loro lo suami. Gargamuni trovò l'ascensore. Aveva difficoltà a manovrare il lettino a rotelle e andò a sbattere contro il muro. Aveva dimenticato a che piano era la stanza di Suamigi. Sapeva solo che doveva proteggerlo e che lui voleva essere portato via. Quando finalmente Gargamuni raggiunse la stanza di Prabhupada, il numero 607, si trovò davanti un medico che l'opostrofò incollerito. Non me ne importa nulla, disse Gargamuni. Lui non vuole più altre iniezioni e altri esami. Ce ne andiamo. Brahmananda arrivò, calmò suo fratello minore e aiutò Suamigi a tornare nel letto. Prabhupada disse che voleva andarsene. Quando entrò il medico curante, Prabhupada si sedette e parlò con decisione. Dottore, io sto bene, me ne posso andare. Mentre parlava, strinse la mano al dottore per dimostrargli che stava benissimo. Il dottore ridacchiò. Disse che sebbene Suamigi stesse riacquistando le forze, avrebbe dovuto rimanere ancora per qualche giorno. Non era ancora fuori pericolo. Aveva bisogno di attente osservazioni mediche. Dovevano fargli un altro encefalogramma. Srila Prabhupada avvertiva ancora dei dolori circoscritti alla zona cardiaca, ma riferì al dottore che i ragazzi gli avevano trovato un posto in riva al mare dove poteva riprendersi. Benissimo, disse il dottore, ma non poteva lasciare andare via così il suo paziente. Prabhupada però aveva già deciso. Brahmananda e Gargamuni trovarono un auto a noleggio. Riunirono le cose di Prabhupada e lo aiutarono a vestirsi. Mentre lo scortavano fuori dalla stanza e diventò eloquente che i ragazzi stavano portando via il vecchio, alcuni dottori e infermiere cercarono di fermarli. Brahmananda disse loro di non preoccuparsi. Suamigi era molto caro a tutti loro e se ne sarebbero presi cura adeguatamente. Gli avrebbero fatto i massaggi regolarmente, avrebbero riposato e gli avrebbero dato tutte le medicine che i medici avevano prescritto. Dopo un periodo di riposo al mare sarebbe tornato per un controllo. Brahmananda. A quel punto i medici erano esasperati, ci minacciarono. Quest'uomo sta per morire. Volevano davvero spaventarci. Dicevano, quest'uomo sta per morire e sarà colpa vostra. E ancora mentre stavamo uscendo ripeterono, quest'uomo è condannato a morte. Era una cosa orribile. L'otto giugno alle dieci del mattino lasciarono l'ospedale. Prabhupada volle fare una breve sosta al tempio al 26 della seconda avenue prima di partire per la casa di Long Branch. Entrò nel negozio barcollando e giunse davanti al ritratto del suo maestro spirituale Bhaktisiddhanta Saraswati e del padre del suo maestro spirituale Bhaktivinoda Takur. Per la prima volta i suoi discepoli lo videro offrire il Dandavat Pranam. Mentre si prostrava a terra davanti al suo maestro spirituale, anch'essi offrirono i loro omaggi e sentirono aumentare in sé la devozione. Quando Prabhupada giunse al cottage di Long Branch a luna disse a Kirtananda di pensare immediatamente al pranzo. Quello sarebbe stato il primo pasto caldo di Prabhupada, riso dal e sabgi dopo l'attacco di nove giorni prima. Prabhupada andò a letto ma ben presto si alzò e andò in cucina per chiedere è pronto? Kirtananda si scusò e disse che si sarebbe affrettato. Dopo pochi minuti Prabhupada tornò. Sembrava furioso. Perché ci metti tanto tempo? Kirtananda si muoveva più velocemente che poteva ma non riusciva a far bollire il dal più forte. Qualunque cosa sia già pronta disse Prabhupada dammela ora non importa se è cruda. Kirtananda servì il pranzo e Prabhupada mangiò con il gusto di una persona che è in buona salute. Kirtananda telefonò al suo amico Hayagriva a San Francisco. Ha mangiato ogni cosa, era un piacere vederlo. Il villino a un solo piano era situato in una tranquilla periferia a pochi passi dal mare. Il cortile retrostante era cintato da alberi e arbusti e tutti intorno fiorivano rose perfumate. Spesso però il tempo era burrascoso e il cielo era grigio. Prabhupada parlava di tornare in India per riprendersi. A Delhi Sri Krishna Pandit aveva rifiutato l'urgente richiesta di medicina ayurvediche. Ti trovi così lontano se la medicina supera qualche reazione negativa come sarebbe possibile trovarne una buona? Prabhupada aveva risposto chiedendo che un medico ayurvedico venisse in America ma la proposta non sembrava attuabile. La cosa migliore era che Prabhupada andasse in India. Ricevette una risposta di Swami Narayana Maharaj il quale diceva che se nessun medico ayurvedico poteva andare in America. Sua amici doveva tornare in India e sarebbe stato curato a Calcutta. Narayana Maharaj accluse anche una lettera per il segretario di Prabhupada, Rai Ram. Non vi è necessità di diventare ansiosi. Canta sempre l'Arinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, vicino al suo orecchio. Dio agirà nel modo migliore. Shrila Prabhupada parlava di andare in India non soltanto per la sua salute. Aveva detto a Kirtananda e Gaurasundara che voleva fondare a Vrindavana un centro americano, un luogo dove i suoi discepoli americani potessero studiare la cultura verica per poter meglio predicare in tutto il mondo. Disse anche che voleva dare l'ordine di Sannyas ad alcuni suoi discepoli, Kirtananda, Brahmananda, Hayyagriva, e l'avrebbe fatto in India. La sua vera missione comunque era in America, se solo avesse potuto riacquistare la salute. Ma dove era il sole? Govinda Dasi aveva nutrito il desiderio di servire i suoi amici di persona fin da quando lo aveva incontrato a San Francisco. Si era accorta che egli era libero dall'egoismo e che il suo amore verso i discepoli era di natura diversa da tutto ciò che aveva conosciuto prima di allora. Non aveva parlato del suo desiderio con nessuno, nemmeno con Gaurasundara, e ora Krishna stava appagando il suo desiderio permettendo a lei e a Gaurasundara di venire nel New Jersey per servire i suamici. Ai devoti di New York il fatto di avere una coppia di devoti che si prendesse cura di suamici sembrava la cosa migliore e Govinda Dasi e Gaurasundara erano disponibili. Queste erano ragioni esterne, ma Govinda Dasi comprese che Krishna stava esaudendo il suo desiderio. Servendo a suamici Govinda Dasi si sentì completamente appagata. Ora che si stava dedicando a suamici, come aveva sempre desiderato, nella sua mente non vi era nient'altro. Nonostante i problemi incontrati con Kirtanananda nel lavoro quotidiano, egli sembrava pensare che fosse meno intelligente per il fatto che era una donna e spesso la correggeva, lei era felice. Govinda Dasi. Suamici si sedeva su un piccolo divano di fronte a un tavolino e Gaurasundara, Kirtanananda e io ci sedevamo sul pavimento. Mangiavamo tutti insieme, come una famiglia. Parlavamo e una volta il discorso cadde sul riso. Kirtanananda disse, il riso bianco è per gli uomini e quello scuro è per gli animali. Allora io intervenni. Devo essere un animale allora, perché il riso scuro mi piace moltissimo. Allora Suamici scoppiò in una lunga risata. Trovò la mia battuta molto divertente. Posso arguire che trovasse le mie parole molto sincere e rise, rise tanto. Prabhupada era seduto nel cortile retrostante quando Govinda Dasi vide una lumaca che strisciava sul muro. La indicò a Prabhupada. Canta per questo povero essere, disse, e lei cominciò a cantare Hare Krishna. Govinda Dasi faceva passeggiate giornaliere e con il permesso dei vicini coglieva dozzine di rose. Al suo ritorno le sistemava nei vasi e portava i vasi nella stanza di Prabhupada. Una volta mentre lei stava tornando dalla sua passeggiata nei dintorni, Prabhupada la sentì cantare ad alta voce Hare Krishna e fece notare a Gaurasundara. È una ragazza dal cuore molto semplice. Govinda Dasi. Suamiji parlava di Krishna in tal modo che Krishna era presente nella stanza. Era una cosa così sorprendente per me. Parlava delle attività di Krishna, come Krishna facesse questo o quello, come Krishna è meraviglioso o di ciò che pensava madre Yashoda. Parlava ed entrava in uno stato interiore così bello che la stanza risplendeva come oro. Mi sembrava di essere trasportata in un altro regno, del tutto nuovo per me. Non avevo una grande comprensione di ciò che stava accadendo, ma tutto era nuovo per me. Era una vera esperienza trascendentale, quella di sentire la presenza di Krishna e quasi di percepire nel cuore il ricordo dei suoi divertimenti. Suamiji che suonava i kartal, Suamiji che camminava sulla spiaggia, Suamiji seduto nella sua stanza o che si riposava. Ogni cosa gli facesse era meravigliosa per Govinda Dasi ed ogni cosa gli facesse o dicesse glielo rendeva sempre più caro. Jai, ci fermiamo qui. Svi la Prabhupada Kijai, Svi la Prabhupada, li lamlita Kijai, Gov, prema, dalle, arrivo.